e complimenti a quei dementi perché sono dementi si possono chiamare che anche sto anno hanno lasciato la porta di bivacco aperta ci sono due serrature nuove una qua e una sotto ma ci sono dei poveri dementi che ogni anno per far dispetto vengono su e lasciano la porta aperta ma vi ricordo che non mi fate dispetto a me perché ho letto di dentro sopra la fornella siete dei poveri voi della montagna non andate neanche in montagna voi che fate queste robe dovete solo vergognarvi